bello a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video di animo studio e oggi siamo con il video di 105 manager di simon laner attenzione ecco qua attenzione continuiamo andiamo avanti signori con la carriera aperto che l'ho riusciamo dietro attenzione se vuoi parlare di mezzo troianello pazzini e il villain sto spazzando troianello attenzione troianello suone quel gioco ma che è fuori giudici di bimbo gomez greco gomez palla lì troianello scusi gomez troianello troianello pazzini pazzini vedete siamo avanti con la partita grazie pazzini pazzini mamma mia che cos'è gomez troianello pazzini pazzini usciò troianello usciò vammala lo sapevo io che erano i miei favoriti pazzini pazzini troianello troianello show mamma mia che bomba che bomba troianello un ottimo giocatore attaccate destro ha deciso il gioco mamma mia sei tiri a zero ragazzi un amico ovviamente che ha visto lì mamma mia un amico che ha visto il primo video meglio ti iniziare con il bari coppola mamma mia io non lo sapevo cioè ho iniziato con l'altra ora non posso ricominciare tutto da capo mamma mia coppola non posso iniziare tutto da capo perché sarebbe una schifezza questa io continuo così poi perché ci possono anche arrivare offerte non so se lo sapevate poi coppola si sa fino inizio il campionato non so se scambio quindi so in parte del moro però sta attaccando sta attaccando la sua chance per noi mamma mia no infatti gli spettatori attenzione c'è questo nuovo greco mamma eh sì quella no arrivo attenzione regione coppola mezzo attenzione troionello troionello mezzo pazzini per questo vi avrò anche la prima partita di campione che non che ti non che non che che rifiutata il giovane è un mignolo il giovane è un mignolo quello non ho mai visto questo babanco 4.8 andiamo avanti oh contratto che stagione per due stagioni possiamo superarci babanco e andiamo e andiamo babanco nostro primo babanco l'ultimo giocatore che mi sarebbe messo a sinistra babanco cc e adesso c'è la prima partita di bari contro i campioni contro il bari c'è la prima partita di campionato si svolge ora le squadre stanno per entrare di campo inizia adesso bari vero attenzione il bari si porta in estremità coppola per i minuti di gioco subito pressivo il bari poi coppola di babanco ancora babanco dribla babanco pazzini fuori gioco grandissimo assi di babanco attenzione pallale gran pesa di coppola terzo posto attenzione ancora due pazzini attenzione pallale zuccolini pazzini non so se pazzini non so se leggere c'è trojanello questo tre oh non ho messo trojanello coppola non riesco a leggere se devo fare grazie romolo babanco sinicardi non è nascito a tenerlo a bassa sono spinto posto bari a set greco zuccolini greco ancora gomez gomez parato di guarno bobo bobo da vela vedato fa furlano un po' sopra la morse pazzini prima parato non so chi è stato c'è una palla lì ma che fa che nel primo tempo 7 tiri a 3 se non vinciamo la partita siamo al punto posto sotto a destra non sotto 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 in esterno a destra palla lì coppola migliore in campo non è vero che è fuori furla un fedato De Luca De Luca Coppola è la vattene 3 in difensione fedato non ci chiedo Coppola pazzini 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 avanza due rigore rigore cosa mi sbagli c'è un po' ma si fanno queste cose insieme a me pazzini sono pazzette per la lungo 5 ma torno il pivo tiri di rimettere i ganzi qua due campi e tanti tiri man su c'è un po' c'è un po' la lì c'è un po' c'è un po' c'è un po' babanco zuccolini sono i gardi babanco palla lì che porca contraattacco sono i gardi palla lì guarda c'è un po' e vabbè sì tiro una bomba c'è un pazzino in mezzo si li ca a pazzine mi ha dato pure il rigore pazzine eh che pareva che dovevamo prendere colpo proprio adesso feto di merda eh si non tunesimo la squadra non ha giocato veramente bene passiamo sbagliare un rigore non c'è niente da dire insomma diciamo resi non sarebbe 16 ragazzi il video è proprio a concludere qua se ti è piaciuto bella bella